Buongiorno dal TGR Puglia, una tragedia che troppo spesso si pensa lontana a quella della Shoah, ma che ha toccato anche tante famiglie pugliesi nella giornata della memoria. Andiamo alla scoperta delle loro storie con il servizio di Renato Piccoli. Fu internato a Dacao. Papà ci ricordava sempre il lavoro da schiavi e ci parlava della fame. Suo papà riuscì a scappare? Sì, si attaccò sotto i tiranti del treno. Un mese prima della fine del conflitto. Per ogni storia una medaglia conferita dal Presidente della Repubblica attraverso i prefetti e i parenti delle vittime delle deportazioni. Anche in Puglia le storie, sino ad oggi purtroppo poco conosciute, sono tante, ma riscoprirle dopo anni serve. Aiuta a tenere vivo il ricordo, come la deposizione delle corone di fiori fatte su tutto il territorio dall'Ampi. Ci impegniamo a ricordare perché non si ripeta più. Al fianco delle storie di vita, i luoghi da preservare per non dimenticare. Il concentramento dovevano ristretti antifascisti, cittadini unglesi, slavi e chiaramente ebrei. Iniziative ovunque, in una Puglia che non vuol dimenticare, ma il cuore del giorno della memoria è l'aula del Consiglio regionale, collegata con le scuole. Qui gli studenti sono stati aggiornati sugli studi dell'Istituto per la storia dell'antifascismo. Siamo riusciti a ricostruire le vicende di un ebrea polacca, Miriam Moskowitz, la quale dalla deportazione, dalla prigionia in Polonia, trova accoglienza in Puglia e poi parte per gli Stati Uniti e ricomincia a vivere. La Puglia, oltre all'orrore delle deportazioni, ha visto anche luoghi di speranza come i campi di accoglienza e questo aiuta a scegliere da che parte stare. Bisogna assolutamente avere cura di questi luoghi. Dobbiamo creare delle comunità consapevoli, delle comunità con una coscienza critica e delle comunità che siano in grado di portare avanti la memoria di queste vicende.